Siamo calmi siamo calmi perché praticamente com'era la situazione qua sotto c'era il bastardo E io non mi ricordo più i comandi non mi ricordo più un cazzo C'era il bastardo però tu andando un pezzo avanti scoprivi che la roba non ce la portava dietro Con la funiglia quindi dobbiamo mettere la roba che abbiamo lasciato in quella stanza Dove c'è quel cazzo di coso nero portarla qua Sì esatto Però in realtà io ho visto che poi mi pare che lui cada giù nel coso Io mi scendo il cuore mi porto proprio la roba qua No stai fermo va Beppe stai fermo Stai fermo per due motivi Primo motivo non so come si fa a tornare nella stanza dove gli oggetti Secondo motivo hai di nuovo il microfono nel culo Allora proviamoci tanto abbiamo salvato sei ricariciamo Ok eh niente ma lui mi mangia lo capisci che mi mangia Eh ma ora sono su attenzione A te io sono su attenzione A primo grado di attenzione Eh devo ricaricare Lei è per caso più veloce di lui Provare con lei No ho sbagliato ho sbagliato strada Niente Sto svegliando strada Mazzo Mazzo Ma io se dovessi fallire un'altra volta Cioè se vedo che sto fallendo troppe volte vado a cercarmi qualche trucchetto su internet Mi sono rotti i coglioni Perché purtroppo Ehm Il problema è un po' la telecamera Capito Anche sì Perché io non vedo questo dove cazzo è Non puoi portare altri oggetti Vabbè fino a qui ci siamo Io esco Allora la prima volta è molto semplice La seconda niente La seconda è impossibile Oh no Carichiamo Io quanto giusti ho? Aveve il coltello o lo porti? No Sono super icono Allora sto andando a cercarmi qualcosa Mi sto rompendo il cazzo Madonna ma guarda che Internet è diventato una merda Cioè non ti puoi più muovere senza che non ti si apra una pubblicità Senza che non ti chiedano i consensi per pulirti il culo Porco di... Qua sai cosa dicono? I simpaticoni Cosa dicono? Evitalo 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 O al limite usa le molotov I migliori Molotov è l'arma più inutile perché ci metti talmente tanto a lanciare una molotov Che nel frattempo lui ti ha già mangiato Porco maledetto Io ci sto riprovando Eh ma tanto Beppe più che provarci che devi fare? Allora uno ci prova con le molotov E riesce ad ammazzarlo di culo Ma io non so come si può fare con le molotov È impossibile Allora praticamente io adesso provo Allora aspettare che arriva qua Ehi là E niente mi becca È impossibile Impossibile Perché lo spazio è troppo stretto No no non si può fare Non si può evitare al ritorno Al ritorno non si può evitare Oh Ci facciamo a due una volta E poi è andata così Cioè Stiamo più avanti Speriamo di trovare qualcosa di verde Eh io Boh Faccio ancora un tentativo di molotov a sto punto Sto provando a fare con le molotov Io tanto ne ho sei Mi chiamo Anto ce li ti lanciano Eh ma sono lanciate in faccia da sola la molotov Ma sarà Allora Tre molotove muore Sì Tre molotove muore Ma sono Sconfiggi Mimicri Marcus Con un cocktail Si chiamano Mimicri Marcus Va bene Io però Sai qual è il problema Io non mi ricordo Era sua attenzione Allora Secondo me ce la posso fare Senza farmi beccare Allora Esci Però Io ora mi incazzo Perché ti ricordi quante volte Ci avevo provato con le molotov E non aveva funzionato Sì Nell'altro In quello In quello prima Nell'altra stanza della casa Ma perché questo? Perché le molotov Provavo a lanciarle con lui Lui è lento come Cristo A risorgere E giustamente Nel frattempo Questi mi ciucciavano E di noi ci siamo ostinati D'usare spesso lui Ma alla fine Lui è proprio inutile Come personaggio Perché la protagonista è lei È lento Stupido Gli do il rampino No però Porco Dio Maledetto Ma come cazzo si fa A non farsi beccare No vabbè Ma guarda che è una roba assurda Poi un quarto d'ora Tutte le volte A caricare una partita Ma dai Ma me l'hai fatta leggere una volta Sta cazzo di scritta Ma basta Ma fa Ma si può fare un Porco Un menù così fastidioso Niente Comunque una sberla È obbligatoria Pare che una sberla Sia obbligatoria Non ci posso fare un cazzo Io comunque ho disattivato la musica Perché mi sono rotto il coglione Non è possibile Apri la porta Inizia E per forza Uno capisce un cazzo Io faccio un po' di avanti e indietro Ma contento di aver preso solo una sberla Perché tanto Ti assicuro che non è possibile Non prendere la sberla Non si può fare No perché porco Dio Ma un fastidio così Io non ho mai provato E si tocca al fianco Forza si tocca al fianco Perché porco Dio Cioè non puoi muoverti senza prendere una sberla E a saperlo che si poteva ammazzare con tre molotov di merda Lo ammazzavo subito Non aspettavo adesso Ovviamente non puoi lasciare altri oggetti in questa stanza Perché per forza E qui se devi Porco E qua c'è dei mic mic che spaccano il cazzo Allora aspetta Praticamente il video parte quando ti sposti nella funivia Per sposti nella funivia parte il video Se si spegne la funivia arriva il mic mic Salvo salvo Non c'ho voglia di farmi il nuovo tutto Salvo Questo salvataggio lo uso Quella tavola un altro in Ribbon L'unico salvataggio che trovo Lo uso due Tu quanti rinchi Ribbon hai ancora? Io ne ho sei Io ne ho due Ma come due? Tu ne sei Quosa vuol dire che ne hai due? Ho salvato più volte Ma sei matto? Ricordami come funzionava qua Dovevo attivare la leva praticamente No devi andare dal Ah boh L'ho ammazzato con due molotov Prima non morire E' morto con due molotov Ah si dovevo entrare qua Ci sono ci sono Guardalo lì Cazzato nero Babboino Vabbè Senza musica è ridicolo Eh billy Vai va billy Senti che ho capito Quella Allora Praticamente Ok Già morto Due molotov del cazzo Due molotov Due molotov del cazzo Ma perché Ma perché io sta cosa L'altra volta non la sapevo Mo devi dire Mo devi spiegare Perché sai Ma ti ricordi Quanto abbiamo incrinato L'altra volta Sì sì Ma perché provavo con lui Perché ci provavamo con lui E lui il problema E' un personaggio del cazzo Non lo uso più Da qui in poi Mi spiace se mi è arrivato A fine gioco Mi rifiuto di usarlo Cosa farebbe ridere Se poi per qualche motivo Sta parte della mappa esplode E gli oggetti È andata così Un'altra cosa che farebbe ridere E se proprio per quella meccanica lì In realtà tutto lo spostamento Che abbiamo fatto È inutile Non serve a un cazzo Magari troviamo poi tutto In una stanza più avanti Esatto Impostazioni audio Rificca sta musica Abbassare un po' Perché è devastante Non si può fare Boh Io sono abbastanza pronto Per ficcarmi nel treno Boh Siamoci nel treno Schiacciamo sta leva Porco dec Ma No esatto Perché giustamente Di lì si va verso E schiaccia sta minchia va Funi via E purtroppo Queste parti qua Un po' macchinose così Mi rovinano Poi Capisci che uno è nervoso Non è più Non è più immerso Nell'atmosfera di gioco Attenzione Due erbe Eh Deo grazie Ringraziando il scritto Allora Esatto Combiniamole Eh io me le posso combinare Con il cazzo Ma lasciale lì per ora Andiamo avanti Qua che c'è Si può salire su O si può andare in una porta Allora La porta è chiusa Praticamente Mi sta dicendo questo Esatto Ed sarà una shortcut Presumibilmente Via avanti Ta 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 Vediamo un po' che succede Sì c'è una cosa Andiamo su di qua Andiamo su di qua Come dice Eric E c'è una porta C'è sto vento che soffia Molto particolare Qua dove si va a finire No Ok Non era Non volevo Preferivo esplorare prima sopra Anche perché lì è giallo Ma là è una stanza unica Torna su No raga Torna su No E adesso No sono sceso Vaffanculo Ok No torna 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 Ok Torna su Sì devi Non so Devi masturbarlo un po' Forse ho schiacciato X Non è chiaro X X Andiamo nella porta che c'è qua Eh perché è una stanza unica Volevo vedere un attimino Salvataggio sicuro per me Però C'è un ribbon Grazie a Gesù Cristo Grazie a Posso di tornare a salvare Parabellums Qua è un pannello di controllo C'è una serratura La mappa Ma sono un coglione Vabbè Mappa della fabbrica De la fabbrica di che? Io adesso un salvataggio lo tiro qua Che cazzo me ne frega Questa strumentazione Grazie Grazie di dirvi Perché ora la domanda Qual è? Praticamente Qual è? No ma lasciate qua le granate Ma che cazzo fai? Ma perché sono piccio? Sì effettivamente potrei tirarlo Un salvataggio a questo punto Eh no ti va Bisogno a due o tre Ti dicevo la domanda è questa Ovvero Sì Tanto abbiamo salvataggio Ma che vado Abbandona Prende il spray di pronto soccorso? Sì Dove minchia C'è ancora uno spray E a caso Andati di qui dove l'ho preso Aspetta Impossibile di aprire Vuol dire che si aprirà Allora dove c'è C'è La botta da che non si può aprire I caschi degli operai C'è poi c'è una roba di vetro C'è un mobile Ma ci sta cliccando Ma fa un cazzo Clicca La porta dell'armadietto è aperta Non c'è più nulla all'interno È un armadietto con Spray di pronto soccorso Esatto A caso Perché pensavo fosse la porta Quello è il migliore Abbandona Abbandona Lasciolo lì Occhio che non possiamo abbandonare 2000 robe Quindi abbandona Abbandona il ribbon Va bene Questa è una stanza di salvataggio Fa piacere Possiamo esplorare Con tutta tranquillità Dare giù Da sta Ah lo facciamo dopo Quindi Porta ciutto qua Sì Nel senso che se vediamo Che mal che vada serve Abbiamo un salvataggio Non ci voglia adesso Basta Esploriamo con tranquillità Vediamo che succede Adesso come minimo C'è un boss Eh perché per me Salvataggio qua tattico E quindi Va Qua c'è un silenzio di tromba L'ho riattivata la musica Questo mi viene il dubbio No 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 Qua è proprio di tromba Te lo dico io No sai perché Sì sì La musica c'è Ci sono una porta da andare Andiamo Cosa è che luccica lì Qua c'è una bobina Chiave della fabbrica Che era da ficcare Nella stanza La bobina No no che bobina Scusate L'hai visto La cosa Il monitor L'hai guardato il monitor Adesso lo sto guardando Un umano Un nodo gigantesco Scusate di un liquido Biorganico all'interno Di una capsula Ok Già capito che Quello È il nostro amico Però tu mi hai detto C'è una porta Non è vero un cazzo Niente No no qua no Ci sono la chiave Sì Ridi ridi Eh troia di merda Hai ragione Eva Bink Ancora qualcuno Non so Mister X Nemesis Oh gli ho evitati entrambi Eric non mi chiedere come Che botta di culo Uno una sberna Ma Ma ficcata Tranquillamente Sai Tanto quando ci do Di tornare C'è un cazzo Sì però Maledetto il cazzo Ero su ok Sono su attenzione Ma mi avete rotto La minchia C'è un colpo Ero su ok Adesso si è su attenzione Sì Minchia Vi ho voglia di ricaricare Ragazzi Io ce l'ho fatta Cioè ma Usando Non mi chiedere come Ma un test finto Ci riprovo Fai tu Tanto io ti aspetto A stare salvataggio Pieno di sopra No Non c'ho voglia Sai cosa Sai cosa Ti spiego perché Non c'ho voglia Perché Mi ha insegnato Guarda L'ultima volta L'abbiamo imparata Sta cosa Forza di ricaricare Uno deve accontentarsi Andare avanti Perché poi se no Mi piglio due sberna Invece di una Hai ragione Poi è peggio Hai ragione Hai ragione Allora Adesso ne abbiamo Una chiave Della fabbrica Che adesso esamino Si legge U Vabbè E cosa possiamo Aprire con questa chiave E qua c'era da ficcare Ma hai finito Nella Usa Ok Ma nella botola Ma no No Non la botola Cazzo Allora Beppe Io Io l'ho fatto L'ho ficcata La chiave Però Io no Lo sto per ficcare No Io vedo una roba Che mi sa di Andare parecchio A fare in culo Puoi ficcarla Per vedere cosa succede Succede Niente di grave Però A parte che non ho capito Dove è successa Quella cosa lì Di qua Nel coso Io so dove Dove siamo scesi Con l'ascensore No piccolo Forse Sai Io penso che Vuoi non vuoi Dovremmo comunque Ricaricare Per prenderci Le armi Possiamo provare Ad andare giù Comunque Per curiosità Però Abbiamo un salvataggio Però a questo punto Io le porterei adesso Senza Specare un salvataggio Cioè Non lo so Nel senso Intanto mi sono preso Uno schiaffo Quindi Nel caso Nel caso Se mi trovo costretto A ricaricare Ricarico volentieri Abbassa Sta piattaforma Vediamo che succede Io rimango su Ah è qua Perché mi sa di fine Proprio fine fine gioco Sta roba qua Io E io ci sto andando Con una pistolina Stump Perché mi viene in mente Anche che avevamo Una shortcut Lì vicina Quindi Non è detto Che qua Sia per forza Che non ci troviamo più Non lo so Non lo so Non so che fare Tu sei andato giù Tu sei andato giù Tu sei ancora qua Nel tempo Non funziona Io sono andato giù Per vedere che c'è Ciao Ciao Poi mal che vada Minchia Sette le camere Io mi porto da roba qua Sai perché Non mi ha toccato Non c'è bisogno Di perlussare questo posto Hai capito Poi decide lei Qua che succede Shaft Non c'è bisogno Di perlussare questo posto Sì 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 A Bogotaus Esatto E mi è partito un video Eh io sto ancora Su una piattaforma Sto aspettando il tuo verdetto Perché non mi vedi Attenzione Non scurri Sei vivo Sei ok Rebecca? Onde è tutti? Guarda una favola Mi sarebbe arrivato qui Adesso non ho visto Sì ma con que Che doppiaggio raga Vabbè raga Kindomarts Rebecca All right Just be careful Oh I never saw him Again Ah bon Vabbè Eh ok Qua Niente c'è un video Da Kindomarts Chiave dell'ascensore Che è la chiave Che si trovava Nella Quando siamo usciti Dalla funivia Che c'è Elevator C'è una porta chiusa Hai già perlustrato Quest'area Ah sì E allora E allora Io vado di qua Non c'è bisogno di perlustare Però mi stai scassando la minchia Gino Dovano assù davvero Perché qua in fondo c'è una porta rossa È un ascensore Questa porta Questo dispositivo serve per attivare l'ascensore Ok Piccola chiave Niente qua se mi parte un boss Ti avviso praticamente Partito un altro video Io aspetto su Messo pausa Ah sì Guardalo lì D'altronde l'abbiamo chiamato Sì eh E adesso Abbracciami guascone Posteria Va bene Ehm Praticamente Adesso Stiamo ancora in un video Però qua Bisogna capire se finisce A corriscappa C'è il Nemesis O Niente Me lo devo fare con la pistolina Ehm Un attimino così per il meme Però Ah Erco Dio Vabbè non mi sembra il caso Aspetta Niente Beppe Dobbiamo portarci la roba Questo è il verdetto finale Eh Va a saperlo Stiamo sprecando tanto di quel tempo Questi oggetti Perché non c'è sto cassone della minchia Sì Beh Io non ho capito perché l'hanno dovuto togliere Io Stavano sui coglioni Non lo so Eh ma forse perché per il fatto Che c'hai due inventari Beh magari diventava troppo facile Però così diventa una roba Che sto perdendo Cioè Capisci che Se backtracking A non finire Se uno ci gioca 30 ore E fa 15 ore Sono solo di fare backtracking Per gli oggetti Buongiorno Permesso Grazie Buongiorno Rane evitate Buono Perfetto Alla fine Rane abbastanza Assunzate Sì Ok Questa parte per me è nuova Eh però iniziamo male Non è possibile evitarlo però Questo è un problema Mi state spaccando i coglioni Ehm Cioè Perché ho come l'impressione Che sto sbagliando qualcosa